Il sindaco Dario Nardella ha convocato il Consiglio Metropolitano di Firenze per mercoledì 23 novembre 2016 alle 9 in Palazzo Medici Riccardi. Durante i lavori saranno presi in esame una variazione del bilancio di previsione 2016-2018, il DUP, Documento Unico di Programmazione 2017-2019, il Regolamento per la Costituzione, Destinazione e Ripartizione del Fondo per la Progettazione e Innovazione. Tante opere pubbliche all'ordine del giorno, tra l'altro anche lo schema di accordo di programma per l'adeguamento del sistema di viabilità comunale di collegamento tra il Polo Tecnologico di Empoli e lo Svincolo di Empoli Est sulla FIPI-LIT. Il nuovo accordo di programma per la realizzazione della circonvallazione sulla SP69 nel comune di Impruneta e la Convenzione tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Lucca e Autostrade per l'Italia SPA per la sostituzione e il potenziamento delle barriere di sicurezza di cavalcavia sovrappassanti le autostrade A1 Milano-Napoli e A11 Firenze-Pisa Nord. Il completo ordine del giorno è su cittametropolitana.fi.it